Questo tipo di farmaci, molto utili anche perché immediatamente a portata di mano ci evitano le quote dal medico e quant'altro, possiamo darli anche ai nostri bambini in caso di bisogno? Cerchiamo di capirlo con il professor Massimo Agosti, eccolo qui, è collegato da Milano, il professor Agosti è responsabile della neonatologia dell'ospedale di Varese. Professore, benvenuto ad Ippocrate. Grazie, buongiorno. Allora professore, questi farmaci, quelli da banco, gli OTC oppure quelli senza prescrizione medica, nel caso di piccoli disturbi, si possono dare anche ai bambini oppure, pur essendo un farmaco da banco senza prescrizione, è importante in quel caso avere il consiglio del medico? Ma direi che è importante avere il consiglio del medico come educazione sanitaria, l'utilizzo poi e anche non è una vera e propria automedicazione perché è la mamma che dà al bambino il medicamento, ma la mamma deve avere una autoresponsabilità in qualche modo, quindi deve conoscere di poter dare questi farmaci, che sono dei farmaci generalmente antifebbrili, antidolorifici, antinfiammatori e li può dare con discreta tranquillità e serenità, nella consapevolezza di aver imparato in qualche modo, di aver appreso dal pediatra curante del bambino e questo vale soprattutto col primo figlio perché sapete che col primo figlio i genitori sperimentano tutta una serie di ansia, di preoccupazioni che poi col secondo, col terzo, se ne vanno, però in realtà col primo bambino tutto sembra terribilmente più complicato e questo è davvero un momento in cui il pediatra può giocare una bella carta di raccomandazione e di sicurezza verso la mamma che quindi può usarli con serenità ovviamente senza abusarne e poi raccontando anche al pediatra quello che ha fatto. Professore Agosti, abbiamo detto che sta per arrivare l'influenza, il primo caso a Genova è già stato evidenziato e il virus di quest'anno, c'è anche l'H1N1 che l'anno scorso ha causato tutto quel panico, ma insomma quest'anno è stato derubricato, diciamo così, non dovrebbe essere un'influenza particolarmente virulenta. Quali sono i sintomi che però comunque ci devono preoccupare sui nostri bambini? Fino a che punto una febbre, delle placche, alle tonsille oppure un malessere generale del bambino? Fino a che punto bisogna stare su per giù tranquilli e quando invece bisogna andare in ospedale? Certo, ma direi che il bambino non sfugge in qualche modo alle regole che dicevate prima e che ho sentito prima anche da studio per quanto riguarda l'adulto. I sintomi generali sono sintomi legati al raffreddamento, quindi sintomi legati a tosse e raffreddore se riguardano l'apparato respiratorio. Possono riguardare anche l'apparato intestinale, quindi il sistema intestinale, quindi possono presentarsi anche con vomito e con diarrea. Solitamente nei primi 3-4 giorni, per andare proprio un po' sul pratico, direi che dobbiamo dare tempo, come si diceva, come dicevate anche molto bene prima, dare tempo a che quest'influenza si possa anche sfogare. Quindi valgono le regole del buonsenso, tenere a casa il bambino, dare dei farmaci antinfiammatori, antidolorifici, dare una buona alimentazione, una buona idratazione. Questo è molto importante e dare tempo anche affinché questa malattia si possa in qualche modo sfogare e possa anche un pochino avvenire. I sintomi di preoccupazione possono essere se magari dopo i primi 4-5 giorni permane o peggiora magari una brutta tosse, il bambino incomincia a diventare inappetente e magari dal febbrone si passa alla febbricola. Vede, spesso le mamme si spaventano per il 39-40 di febbre, che invece è una bella reazione dell'organismo. Certo, la febbre va abbassata con l'antifebbrile, come si diceva prima, però è una febbre che dura 2-3 giorni. Mentre invece quella febbricola, col bambino un po' abbattuto, con un po' di inappetenza, con poca voglia di alimentarsi. Quella bisogna tenerla più sotto controllo, professore, questo tipo di febbriciattola, diciamo così, è un po' più preoccupante. Può valer la pena che il medico visiti il bambino ed eventualmente si può prendere in considerazione l'utilizzo di altri farmaci di maggior copertura. Tipo gli antibiotici, ma deve essere chiamato il pediatra. Professore, quello che invece vorrei lei sottolineasse molto bene, perché molte mamme appena vedono 36 e 2 linee danno l'antipiretico al bambino, preoccupatissime perché, oddio, c'è la febbre. Fino a che punto un bambino può tollerare senza grandi problemi quello che, come ci ha detto prima il professor Pregliasco, è comunque uno stato del corpo che serve all'organismo, quindi la febbre, ci è utile per affrontare, utile al nostro sistema immunitario per affrontare la malattia, chiaramente entro certi limiti. Questa è una domanda molto interessante perché è molto utile per le mamme, perché molto spesso c'è, come diceva giustamente lei, un abuso un po' di questi farmaci, ma perché soprattutto le mamme pensano che la temperatura normale del bambino sia come la temperatura dell'adulto. Invece così non è il neonato, il lattante, il bambino poi, comunque il soggetto in tenera età è normalmente più caldo rispetto a un adulto. Una temperatura esterna misurata all'ascella di 36,5 in un soggetto adulto equivale a un 37,5, 37, 37,5 per un soggetto in tenera età, per un bambino. E questa è una temperatura normale. Quindi va da sé che se poi la misuriamo a livello rettale, come spesso noi pediatri consigliamo, perché in questo modo abbiamo un dato più sicuro, più probante, quella è la temperatura che chiamiamo anche interna, le mamme conoscono bene questa nostra diversificazione, imparano a conoscerla con i primi figli e li dobbiamo aggiungere a un altro mezzo grado. Quindi in pratica un soggetto che sta bene, un bambino che sta bene, può avere normalmente una temperatura di 37,7, 37,8. Magari se la misuriamo al pomeriggio davvero può anche sfiorare i 38. L'ultima domanda, professore Agosti, le classiche piccole epidemie, quelle da asilo, cioè o da scuola elementare, il nostro bambino va in questa piccola comunità, basta che uno ci abbia l'influenza, naturalmente ce la porta a casa. Non è tanto grave per il bambino, quanto paradossalmente per il nonno, professore Agosti, vero? Sì, in un certo senso sì, il primo anno di entrata in comunità per il bambino è un cosiddetto addestramento al combattimento, per dirla in modo un po' banale, nel senso che sperimenta tutti i vari germi che prima non aveva potuto sperimentare e quindi si ammala più frequentemente. Ma questo è normale, vanno rassicurati i genitori, bisogna stare attenti però che appunto il bambino diventa contagioso e quindi persone un po' più deboli, un po' più fragili che vivono nel contesto familiare, ad esempio dei nonni, dei nonni magari problematici perché hanno qualche difficoltà cardiaca, su monofarmaci e che magari una banale infezioncina che per il bambino può soltanto procurare poco o niente, per il nonno può diventare un serio problema. Allora, grazie mille a professor Massimo Agosti.